L'azienda Profilglas SPA di Fano ha stipulato un finanziamento per complessivi 80 milioni di euro finalizzato al sostegno degli investimenti per l'attività produttiva dell'azienda, leader nella lavorazione di alluminio di alta qualità, connessi anche al consolidamento della presenza della società sui mercati internazionali. L'operazione è stata condotta da un pool di istituti finanziari, tra cui Unicredit in qualità di banca agente e bookrunner. L'azienda è stata fondata a Fano nel 1982 dai fratelli Giancarlo e Stefano Paci. Si tratta di un'operazione strategica, sottolinea Silvia Paci, CFO di Profilglas, grazie alla quale potremo sostenere in modo adeguato i nostri progetti di crescita a medio e lungo termine, sia in Italia che sui mercati internazionali. Il supporto di Unicredit ai piani di investimento per l'attività produttiva di Profilglas, afferma Andrea Burchi, Regional Manager Centro-Nord Unicredit, risponde alla nostra logica di sostegno al territorio e di accompagnamento delle realtà imprenditoriali italiane in grado di attivare percorsi di crescita virtuosi. Il finanziamento a favore di Profilglas, spiega Andrea Nuzzi, della Cassa Depositi e Prestiti, si inserisce nella più ampia strategia dell'Istituto, orientata ad una sempre maggiore attenzione al territorio e al sostegno delle migliori aziende italiane, con specifico focus per quelle del Centro-Sud.